In un mondo in cui l'odio domina tra un omicidio e l'altro, una sola persona ci può salvare. Se siate vittime o carnefici di il detective Colanco ci salverà. Lui è uno ma l'unico è il solo che ci può salvare. Lui è uno ma l'unico è il solo che ci può salvare. Lui è uno ma l'unico è il solo che ci può salvare. Lui è uno ma l'unico è il solo che ci può salvare. Lui è uno ma l'unico è il solo che ci può salvare.